Allora, è arrivato oggi un importante comunicato da parte della Curva Sud, comunicato ufficiale col quale viene annunciato che continua la protesta contro i fricchin, non certamente contro il povero Iuric che è appena arrivato, che sta facendo quello che può. Prima di questo importante Roma-Inter la tifoteria ha ritenuto opportuno organizzarsi per fare una sorta di sciopero del tifo, per 15 minuti la Curva Sud resta fuori dallo Stadio Olimpico e invita espressamente anche gli altri settori a fare altrettanto, io anche rivolgo proprio un appello accorato a tutti quelli che vanno allo stadio, so che perdete un po' di soldi perché giustamente avete pagato il biglietto avete ragione, però la situazione purtroppo durante questa sosta si è anche incancrenita perché non si vedono le risposte, non si vede una rotta decisa verso anche l'ingaggio di un ceo, di uno zio, come volete chiamare, un direttore. C'è una disorganizzazione diffusa nella società, come scrive appunto la Curva Sud nel comunicato, è del tutto evidente che ai fatti, alle promesse, come scrive appunto nel comunicato la Curva Sud non sono seguiti i fatti, è una società assente, che naviga a vista, una società che non sa valutare uomini e situazioni, una società che non comunica quando lo fa, bisogna sentirsi le persone che parlano in francese per dire le cose, che poi tra le altre cose esprimendosi in un'altra lingua non sempre si riescono a esprimere in modo perfetto veramente le cose che si vogliono dire, lo capiamo tutti che la traduzione è un'arte vera e propria che non è tra le più facile, quindi c'è un'insoddisfazione ormai che sta deflagrando, che naturalmente esploderebbe definitivamente in caso di brutta sconfitta, che ovviamente non ci auguriamo come di voti contro l'Inter di Simone Inzaghi, che rappresenta comunque uno scoglio molto molto duro, si parla di Lefe titolare in questa partita, mentre Mats Hummels ha detto che io sicuramente giocherò dal primo minuto contro la Dinamo di Kiev, non so se giocherò contro l'Inter, ma ormai il rapporto fra tifosi e società ai minimi termini basta veramente poco per far esplodere una polveriera, perché ripeto questa sosta ha esacerbato ancora di più gli animi paradossalmente, perché quando le cose non vanno bene a Roma purtroppo le soste fanno questo effetto moltiplicatore, perché la gente è arrabbiata, non trova la valvola di sfogo, non vede l'ora di rifarsi, di vedere una Roma che gioca bene, contiene dei risultati, ma ovviamente questo non può accadere perché ci stanno due settimane di sosta e quindi è come una pentola a pressione che si riempie sempre di più senza trovare la giusta valvola di sfogo. Io per come sono messe le cose sarei molto più radicale, io predico proprio una partita dove tutto lo stadio va allo stadio, tutti i tifosi vanno allo stadio, mi dispiace che perdono soldi, lo capisco, e rimangono tutta la partita fuori dallo stadio, senza fare cori, tutta la partita fuori, simbolicamente se vedono una partita in streaming fuori dallo stadio, si organizzano in qualche modo, ma non entrano perché se noi li lasceremo soli, loro capiranno che se ne devono andare. E ricordatevi sempre una cosa, i tifosi della Roma hanno cacciato da Roma Giorgio Chinaglia, ricordatevelo sempre, figuriamoci se non siamo in grado di far capire ai fricchi che se ne vogliono andare, che se ne devono andare.